Ok, benvenuti al live con The Dade23, mentre presentiamo il nuovo canale creato da me e Andy Rezzo, o Andy Bazooka, dipende come lo conoscete, che si chiama Superfighi Channel come potete vedere dal titolo. Ecco, ho detto The Dade23 che sta in chiamata come su Skype e magari se riusciamo dopo un video Minecraft, facciamo, non so, un Angry Games, vediamo. Ok, questo è il canale, spero che non si vede a scatti perché se no mi cavolo. Ok. Oddio. Allora, questo è il canale, non lo so, questo è il canale che pubblicheremo, cerchiamo di ottenere una partnership da YouTube, e niente, ci impegneremo molto su questo canale, ognuno pubblicherà ogni tanto, cioè, speriamo molto spesso almeno. Eh, appunto. Eh, va bene, è qualcosa da dire? Ah, ecco, chiarissimo. Allora, io direi se possiamo entrare in Minecraft o Minecraft Premium come Dade. Aspetta, se riesco a aprire Minecraft, magari. Eh, va, appunto. Dai, che era? Ah, ecco, 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 ecco. Non è giusto. ok, ok, ce l'ho fatta a chiudere tutte le finestre che mi si erano a parte in più ok, ho inventato un nuovo gioco ah, mi hanno detto che vi hai creato una mod, giusto? mi hanno detto ma chi che consiste, scusa è una curiosità che anche io ah 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 allora questi ci sono degli angeles ma tu non sei registrati, si è registrato su quegli angri-based italiani angri-games no? ce n'è uno? ah sì ma 66 su 64 si quello allora lobby, pieno, pieno lobby, ah lobby, ci ho trovato un lobby è EU17 dimmi, scrivi EU17.mcsg.in punto in speriamo che aver fatto in tempo si no, pieno è una cosa, è una cosa, oh c'è uno di quelli server mandai, come fanno ad essere tutti pieni questi? 63-64 oddio 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 non vuoi parlare, guarda, oddio tu intanto vedi un po' se ne trovi uno guarda, queste qui, lobby, lobby, oh eccolo, EU17.mcsg.in si entrato oddio oddio oddio, oh ferma, che casino ecco ti ecco questa, oddio che dove sei? oddio anche, eh forse sarà, no io sono qui, sono qui, eh sono qui, io non sono lì, sono qua, oddio no, sono qui anche io sto saltellando eh meglio di no eh meglio di no aspetta che scocchi che si rimuono in lega io già ti seguo l'interessante allora, c'è già la lag, speriamo che almeno nel live non vedono ecco ti, che ti si è buttato in l'acqua non vedono, non va, non si vede a sacco, come c'è non vedono ancora più a scatiri quanto, quanto giochiamo noi ok tre voti ma dai sul serio? ma che fatto sopra il ponte che sospetto? basta che non esce niente, per favore che è sto murino in sottofondo che fa ti, 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 va no spero che nel live non si senta va tu hai aperto il live la pagina se l'allettester, ora guarda dac fermo solo dietro di te 6 notte del dite si schizzo ci sono solo sporo fa qua no slash ok anche da che cattivi non c'è neanche i kit per chi non lo sa più sono i Younger Gatsby italiani una volta ha giocato con i francesi c'è uno dei kit che non volevano un tubo cioè era impossibile cioè non mi ricordo quello tutto incorrazzato su quelli francesi c'è un'armatura in pelle c'è solo la come si dice questa parte qua questa parte qui in pelle e i gambali c'è solo quello loro che ne sanno chi è quello di prima mancano cinquanta mancano cinquanta mancano cinquanta sei secondi no io ti sto seguendo sul serio perché che l'h che c'è 26 secondi 26 secondi ti sto seguendo ma tanto quando partirà ma spero che non l'acqua su quello di sphx sono arrivato terzo i con no sul lobby sul lobby terzo terzo insieme altri i treppi insomma qualità con altri due persone ok è partito 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 anche se io è tutto oddio perché sono sottoterra ma ieri se sto saltando ieri ieri buona sedate ieri 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 quanto manca quanto manca che mappa è questa dai anch'io l'hai detto tu dai quanto tempo ci vuole 18 secondi veramente oddio che lag guarda sono fuori dalla piattaforma cioè tu in realtà mi vedi nella piattaforma ma sono fuori brutto segno anch'io no io vedo scuola la che tremenda almeno mi posso aprire le casse ma dove sei si si ecco lo sapevo io che stavo laggando a a se se lo so ti amo un altro odio ragno ok sono non mi uccidere però io sono nella pedano che casino ah beh io ti seguo, io ti seguo, faccio la cosa multibidial dai vai vai via vai via dello spawn dove sei lui ecco appunto vai via dello spawn vai via, vai via dello spawn che poi ti arrivano lobby speriamo che non sono io no, qui no guarda se rimani fermo un attimo rimani fermo, eh trovando cesta rimani fermo un attimo per favore aspetta che ti dico che c'ho la x-ray facciamo i figurbetti non vedo cesta ah ma io così ti sono uccidendo uccidilo 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 freghegliela robe c'è la nodos uccidilo 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 si si temporale un po' scattiva è il primo live che faccio questo vai vai, io sono sempre fermo si come no grande s grande s si 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 la tua grandiosità io sono sempre fermo lì è stato un pollo era un pollo aspetta rallenta rallenta che ti ho perso ecco ti ecco ti ecco ti c'è tutte cose come se avessi dovuto la pozione e se scomparsa no eccolo eh ho voglia mi chiedo come si no cioè guardate che guardate che lag guardate che lag riesco a distruggere le piantagioni che lag che lag che lag che lag anche ah, provo a qualche so a saltare sopra la piantagione magari si rompe di troppo al coso dove sei aspettate che te lo dico se c'è qualche gesto fermo ma questo qui secondo me qua dietro c'è una cesta qui eccola chi che letti che cosa no ma sarà un decoramento se e se non sei dove sei eh ma dove sei? ecco ti sì c'è una neva sì non ci dovrebbe essere sempre no non c'è redstone c'è lo spa un troppo pericoloso da c'è uno c'è uno di dritte è tutto è ferrato e coso king ufo forum ecco ti battaglia epica esiste si sta osservando si sta osservando oddio c'è l'arco yes no 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 morto speriamo no avevo parlato dei super figli avevo fatto anche games cioè speriamo apprezziamo magari facciamo tutorial se riusciamo anche una serie multiplayer ma sarà difficile perché come avete visto c'è un lag allucinante dove c'è tempo c'è tempo ogni cosa al suo tempo anzi lo pubblico e lo facciamo oggi e lo pubblicheremo su su a proposito di server sto creando anche io un server ok che ecco però spero di trasformarlo ho dedicato non amaci se volete entrarci ehm lo so scritto la descrizione che vi do l'ip e 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 ok ci vedremo al prossimo live sui super fighi o o se riusciamo facciamo oggi pomeriggio e o anche adesso quindi ciao a tutti